Ben trovati, nei giorni scorsi l'onorevole Mantovano assieme ad altri otto parlamentari di varia ispirazione politica, quindi un gruppo trasversale, ha presentato una proposta di legge per il riposo settimanale, ossia garantire, tranne i casi invece in cui può non esserci questo, garantire i lavoratori a 24 ore di stop di pausa. Ecco, io voglio sottoporre all'ex sottosegretario all'interno anche la proposta che un giovane elettore e telespettatore mandò attraverso email al sottoscritto dicendo di far proprio un elenco di volontari disoccupati che hanno perso la dignità perché dopo anni di studi, dopo la propria specializzazione, dopo aver lavorato, hanno perso il posto di lavoro. Ecco, forse bisognerebbe fare anche un disegno di legge, una proposta poi di legge affinché le pubbliche amministrazioni e quindi anche gli ispettorati del lavoro possano concedere senza far subire vessazioni di varia natura all'esercente commerciale X, quello di fruire di qualche disoccupato in quelle giornate in cui i loro dipendenti fissi invece possono godere del tanto atteso riposo. Ma perché in Italia si trova lavoro soltanto 24-30 mesi dopo quando lo si trova aver terminato i propri studi e invece un contratto a tempo indeterminato circa dopo 48-50 mesi quando negli States il tutto avviene con una media di 6 mesi? Beh, certo, perché negli States hanno avuto il coraggio di fare le riforme e di rendere il lavoro flessibile una garanzia e una possibilità. In Italia invece è stato fatto, sono stati ipotizzati anche contratti atipici soltanto per fregare il lavoratore e far acquisire forse denari secondo me discutibili. Su uno dei tanti social network che ormai vanno di moda da Twitter a Facebook esce un link, ossia uno dei messaggi che tutti poi coloro che sono iscritti possono leggere che dice questo, in Italia non basta essere preparati e professionali, basta essere lecchini e raccomandati. Ecco, la speranza non bisogna essere preparati e professionali, ma basta essere raccomandati e lecchini. Questa non è un'illazione che qualcuno ha lanciato su Facebook, è certamente invece l'interpretazione di una società, quella italiana. Come mai il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici della Lombardia dice che i concorsi pubblici per l'assunzione dei medici nelle strutture sanitarie pubbliche sono un imbroglio, perché si sa già chi deve vincere e quelli capaci che non hanno i padrini non vi partecipano proprio, perché tanto tutto è già deciso. Non l'ha fatto un esponente politico, l'ha fatto il Presidente dell'Ordine dei Medici. Poi, come dire, la scorsa settimana molti si sono affannati ad affermare che ciò non era vero, ma un'altra caratteristica, come mai del nostro Paese, come mai nelle università molte troppe volte ci sono in ogni ateneo, sia come docenti che come dirigenti della stessa università, parenti stretti, anche molto stretti, figli, mogli, guardiamo anche vari, ma si può guardare ovunque che hanno vinto concorsi di dottorato prima, di ricercatore e poi anche di docente e poi anche di dirigente. Ecco, sì, probabilmente, come dire, in Italia o si è parenti, o si è lecchini, o si è ben raccomandati. Ah, quante speranze possono essere spezzate malgrado la volontà dei giovani di studiare e rendersi professionali e guardare magari anche in altri Paesi dove si può trovare lavoro dopo sei mesi e non dopo cinque anni, sempre se lo si trova. A domani. Grazie. Grazie. Grazie.